Cosa mi spinge a fare il tatuaggio? Pochette domanda. Mi piace e basta. L'ho fermata. L'ho baciata. Mi piace tanto fare il mio tatuaggio. Mi piace essere più notevole. Ecco. Così. Ma hai guardato? Allora ho visto un mio amico che è venuto a tatuarsi qua in studio da Vito. Mi è piaciuto il modo che ha di tatuare, il modo che ha di presentarsi e rapportarsi con le persone. E Marilyn Monroe ho deciso di rifarla perché è l'esempio di donna secondo me. Oggi farò una foglia di marijuana sul culo. T'ho creduta. L'hai voluto. T'ho sposata. Eri piccola. E poi Vito è il migliore e solo lui mi può fare un tatuaggio del genere. Buongiorno. Eri piccola. . Grazie a tutti.